Poi c'è il dramma dei profughi, sono migliaia quelli che sono già scappati dall'Ucraina e continuano a farlo, ora per ora aumenta il conteggio generale, sono persone che si ritrovano per lo più nella città di Leopoli che è diventato un po' il centro di smistamento di questi profughi. Vi faccio vedere adesso il sito dell'UNHCR che fa un po' il conto di quante persone sono uscite dall'Ucraina, in questo momento si stima che siano 836 mila le persone che hanno già lasciato il paese. La maggior parte di queste va in Polonia e tra l'altro arriveranno poi anche in Italia, fino alla mezzanotte di ieri sono arrivati nel nostro paese 3840 cittadini, lo ha reso noto poco fa il Viminale, sono per lo più donne e bambini perché sapete che gli uomini hanno il divieto di espatriare perché devono servire la paese.